Rafforzare i territori, la salute va difesa dappertutto, nei grandi centri ma anche nei piccoli e nelle aree interne. Anzi, in queste parti è ancora più importante garantire servizi di qualità. Solo così si rispetta l'articolo 32, il fondamentale diritto alla salute. A dichiararlo stamattina il ministro della salute Roberto Speranza in occasione della sua partecipazione ad un convegno ad Eboli. Bisogna continuare ad investire, ha detto Speranza, ricordando che si esce da una stagione di tagli, ma il nostro impegno, ha detto il ministro, già visibile nella manovra di bilancio, è di riaprire un ciclo di investimenti con ricadute in tutti i territori. Il ministro, che ha accompagnato dal parlamentare Federico Conte e dal sindaco Massimo Cariello ha visitato anche l'ospedale di Eboli, ha avuto parole di elogio per la fuoriuscita dal commissariamento della sanità in campagna e ha difeso la tenuta del governo di cui fa parte. Io lavoro ogni giorno perché questo governo risolva i problemi delle persone. Abbiamo abolito il super ticket, nessun cittadino lo pagherà più dal primo di settembre, abbiamo messo due miliardi in più nel Fondo Sanitario Nazionale, non avveniva da molto tempo, abbiamo investito due miliardi sull'edilizia e la modernamento tecnologico, abbiamo cambiato i tetti per le assunzioni di personale, cosa che consentirà a tantissimi medici e infermieri di poter accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e quindi di risolvere alcuni problemi che abbiamo come le liste d'attesa. Io penso che un governo si qualifica per quello che fa e noi dobbiamo provare a risolvere i problemi reali della vita delle persone. Sono molto soddisfatto che negli ultimi giorni si sia approvato il patto per la salute, che è il documento strategico fondamentale, sottoscritto dal governo e dalle regioni all'unanimità, quindi senza distinzione di colore politico, era dal 2014 che non si approvava questo documento, è l'impegno fondamentale che il Paese, tutto, la Repubblica assume per ricominciare ad investire e puntare sul comparto salute. Quindi io penso che dobbiamo andare avanti con coraggio, affrontando i problemi della vita quotidiana delle persone. Noi dobbiamo lavorare perché meno regioni possibili siano commissariate. Quando una regione è commissariata è perché purtroppo i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza non sono rispettati. Quando una regione esce dal commissariamento c'è una buona notizia perché significa che invece i livelli essenziali di assistenza sono saliti e quindi questo è un fatto positivo. Tra l'altro nel patto per la salute proviamo anche a porre le condizioni per ripensare l'istituto del commissariamento. Noi dobbiamo lavorare perché ci sia un pieno protagonismo dei territori e perché dai territori possa arrivare una risposta ai problemi reali delle persone. I territori e le regioni sono in grado di valutare perché hanno una vicinanza quotidiana. Quindi noi lavoriamo in questa direzione. Il fatto che la Campania abbia migliorato in maniera significativa i propri numeri rispetto ai livelli essenziali di assistenza io penso che sia un fatto positivo da guardare con grande attenzione.